Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica è per l'udio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio ripotente ed eterno, benedici questi rami di olivo. E concede a noi i tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re, Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo e li viveregna nei secoli dei secoli. Amen. Amen.